Va bene che il Congo è grande e ci abita tanta gente, più di 90 milioni di persone, ma gli sfollati interni sono un'enormità, quasi 7 milioni. L'epicentro della crisi è sempre la regione orientale del Nord Kivu, dove infuria la battaglia tra i miliziani dell'M23, sostenuti dal vicino Ruanda, e l'esercito congolese, o meglio, i Wasalendo, gruppi di autodifesa locali, cittadini che hanno preso le armi, visto che l'esercito di Kinshasa, i caschi blu dell'ONU e il contingente militare degli stati dell'Africa orientale, hanno fatto poco o nulla per sconfiggere i guerriglieri del Movimento 23 marzo. Il recente aumento delle violenze ha spinto un numero enorme di persone a lasciare le proprie case in un periodo molto breve, denuncia l'Agenzia ONU per le migrazioni. La maggior parte della popolazione necessita di aiuti umanitari, raccontano i funzionali delle Nazioni Unite, che seguono una crisi che dura da 30 anni. Milioni di persone hanno bisogno di tutto, cibo, medicine, un tetto, sostegno psicologico. Spesso sono state torturate e violentate. A voi cari abitanti dell'Est, voglio dire che vi sono vicino. Le vostre lacrime sono le mie lacrime. Il vostro dolore è il mio dolore. Ai primi di febbraio Papa Francesco è stato in Congo e ha chiamato in causa tutti coloro che, dentro e fuori il paese, tirano i fili della guerra. Basta arricchirsi sulla pelle dei più deboli. Basta arricchirsi con risorse e soldi sporchi di sangue, ha detto. Ma l'avidità è una brutta bestia da domare e il Congo continua a patire.